bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video io sono la pami e io sono la pamina tu sei la pami e io sono la pamona quanto pesi scusa? guardate ragazzi cosa abbiamo da aprire anche oggi speriamo di trovare qualcosa di buono cosa abbiamo da aprire non te lo faccio vedere cosa abbiamo da aprire è inutile che guardi il secondo schermo è inutile è il magico è il magico esatto e nelle missioni ragazzi abbiamo il baule cangiante non ho mai aperto un baule cangiante dai 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 ragazzi ho le mani fredde ho le mani fredde ma ho anche il nuovo pack andiamo a fare una bella battaglietta ragazzi 4489 ho inserito il pack nel deck copione sono copione cosa devo fare il pack nel deck è forte ragazzi vai vai commentamela tu commentamela tu apriamo con i nostri pipi 3 alla nostra sinistra e 1 alla nostra destra con log rider e lo spiritello del ghiaccio lui messo giù un estrattore con la mia strega al 7 come me come te dai perché tu sei al 7 dai la strega gli ha fatto un po' male ma tu non devi tifare quello rosso devi tifare me mettiamo giù gli arcieri e si dividono non è una bella cosa che si dividono gli arcieri come non è una bella cosa mettiamo giù il peccone stronzo ma non è stronzo è il peccone eccezionale che serve guarda la mega difesa col peccone e la strega te lo sta paleando ancora tutta la vita non so cosa voglia dire paleando però parto con lo vuol dire che gliela sta dando ah ecco 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 non sapevo non sapevo attenzione oh rider oh si è bruciato il valchirione no vabbè amo ma ma è troppo forte il pecca no si è bruciato un valchirione facile così proprio eccoli qua sai come hanno fatto i suoi 4 di però lui ha messo giù un altro estrattore si 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 va bene c'è ancora una scuringia di vita a destra e una sinistra ho capito intanto non mi ferma gli arcieri gli piazza il giant attenzione attenzione il giant al 9 hai detto bene e quando il giant va vediamo se tu lo puoi fermare con qualche scureggia ma perché con qualche rutino ma perché con qualche scureggia perché non ce la fai mai e mi sa che c'hai ragione aspetta un attimo dai peravo il peccone molto bene si ho capito però sarà peccone ha fatto i grandi danni ragazzi gg proprio ciccionazza ho capito ho capito ma ha fatto i grandi danni comunque aspetta un attimo 721 si ma abbiamo fermato un attacco che era completamente perso se avesse avuto il mio deck normale vai 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 con lo grader vai con lo grader ce la fa ce la fa ce la fa vai 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 si 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 lo grader entra ragazzi lo grader entra e lui si brucia nuovamente la vaikiriona devo andare con il cannone lui mi aprirà col giant centrale strega dietro non c'è problema ci ha messo un estrattore si quello oramai non mi interessa è tutto in difesa qua è tutto in difesa torca maialona meno male che ho giocato il peccable non ci credo mi ha lisciato ma perché era merda non te lo potevamo andare sulla torre secondo me ha sbagliato a giocare di brutto e infatti guarda il peccone come ferma il giga mamma mia guardate the pecca power ragazzi the pecca power adesso come entra questo qua non entra più oh i luridi i luridi i luridi devo giocare un secondo pecca devo giocare un secondo pecca patan mica pecca davanti si ciao ciao 3 2 1 che vittoria guarda che il primo se lo tirava prima e poi lo tirava dopo aveva vinto non è che c'ha 39 di elisir nel senso si perché te ne ha tirati due di che cosa di rocket di raddi secondo me io avrei colpito la torre comunque siamo a 4519 cosa apriamo il cangiantino o il magichello cangiantino cangiantino così va bene va bene mai aperto il cangianti ragazzi scando le mani vai baule cangianti scando le mani 103 pipi questi già li uso ed è ottimo dai 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 questi non li uso ma non mi interessa nessuna carta rara perché io le mie rare ce le ho già a posto e arriva l'epica sono due gole il tuo gol no posso skipparli e cercare i pecca ragazzi attenzione dai skippiamo le epiche dammi i pecconi dai dammi i pecconi dammi i pecconi dammi i pecconi dammi i pecconi nooo doveva darmi i pecconi sono 103 di pipistrelli van bene van bene e poteva darmi due pecca poteva darmi che maialone però pront e la ricompensa dobbiamo prendere della roba nel senso 99 di gold 12 royalini e due arieti da battaglia che non usiamo la ricompensa anche di qua basta tutto qua la ricompensa andiamo a fare l'ultima partitella e poi ragazzi apriamo il bole magico trovo la leggendaria la trovo la trovo siamo con Yoha dei Kneb grande 4500 la fa lei la Kneb la fa lei ragazzi attenzione 4500 allora partiamo con dietro no allora in fianco la torre davanti alla torre con i arcieri via 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 l'estrattore lui va con lo rider e i pipi uuuu i barbarotti e boom gli tira la fireball e li ha presi eh ho capito però c'è giù l'estrattore si sono orientati doveva non poter la poca di l'estrattore non è che la mia fireball ha un range grande attenzione non c'è problema non c'è problema bene no ho giocato male il cannone incredibile incredibile dove era il mini stronzo quando serviva non ce l'ho io ma quello è il grande stronzo non è il mini stronzo aspetta un attimo ai 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 sia lì è giù 2004 e 22 2006 e 70 quel bombarolo è brutto è brutto molto bravo lui a piazzare il secondo estrattore c'ha ragione c'ha ragione c'ha ragione 7 8 9 dai che andiamo dai che andiamo dai che si va non c'è l'altro onco questo non c'è l'altro onco andiamo a palla a focare l'estrattore intanto eh lo so lo so lo so devo tirargli via l'estrattore che è quello che mi dà più fastidio lui entra adesso allora eh bel casino qua bel casino allora è ovvio era ovvio era ovvio era ovvio ti diamo i pipistrelli di qua persa completamente oh zappa 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 bene così bene così aspetta forse non è ancora persa ma dove ero stronti non ce l'ho disponibile non ce l'ho disponibile brutta sita c'è un pipistrello che si è salvato sono 90 danni ogni secondo aspetta 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 è persa è persa ma porca di quella porca questi estrattori del cacchio basta lo so è inutile che ti alzi i pollici aspetta aspetta ma lui non sa che io ho il peccone non sa che ho il peccone 6 7 8 va benissimo va benissimo andiamo 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 lui dovrebbe avere i barbarozzi è ovvio che gli avesse è ovvio che gli avesse forza forza devo ciclare lo grinder devo ciclare lo grinder prima ok lui ha giocato di nuovo quello ma la mia intenzione era ciclare log gli spiriti del fuoco tentuna predict incredibile la predict prende il prende il coso 5.70 5.70 lui ha il coso infame maiale ok non sa che ho il peccone io però 24 secondi alla fine faccio un cycle fireball faccio un cycle fireball faccio un cycle fireball ce la posso fare ce la posso fare 2.78 15 secondi ce la devo fare non è che ce la posso fare ce la devo fare 10 ce la faccio ce la faccio 9 8 7 6 5 4 3 2 1 arriva la fireball all'ultimo secondo incredibile incredibile il peccone va a tirare una legnata attenzione non fare niente no no che mi difendo vai 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 per un pelo per un pelo per un pelo ma no non aveva senso difendersi non aveva senso difendersi non aveva senso non aveva la giocata era perfetta è che non c'era il tempo non c'era il tempo materiale non mi posso lamentare andiamo a aprire il bone magico cazzo non è vabbè è stata una giocata mega galattica è stata sì 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 vai aprilo te dai 1320 te lo commento 1320 di gold dai 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 4 mini pecca ragazzi la giocata era meravigliosa super like ragazzi per la giocata meravigliosa secondo me se entrava ribaltavamo la situa ragazzi dai 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 per like 4 capanne di goblin no sono capanne di giallo queste dai 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 questa capanna di giallo che bella giocata che avevo fatto che bella basta scusa 67 canone questi li uso questi li uso attention please abili al 12 ahia 19 rocket potrebbe arrivare non arriva dai potrebbe arrivare oh non arriva non arriva lo vedo troppo bello sempre colorato lo vedo purco vacca quante epi ma cazzo ma dammi dei pecca vabbè ragazzi vabbè epi che ha nastro neanche un pecca beh ragazzi andiamo a fare nulla niente cosa vuoi fare niente volevo ringraziarvi ragazzi per avere guardato questo video che giocata che giocata ma tanto la festa per fare la giocata più bella del mondo ma una cosa doveva farla comunque scrivetevi al canale esatto molti cioni ragazzi e noi ci vediamo presto ciao